Presentato venerdì scorso a San Cataldo, Passione, il libro che tra fotografie e testi racconta la settimana santa a San Cataldese, quattro gli autori, Giovanni Di Lorenzo, Ivan Giumento, Flavia La Ferrera e Bianca Maria Lobianco, immagini che raccontano le ultime ore di vita di Gesù e la rappresentazione che ogni anno viene realizzata, molto simile a un set cinematografico a cielo aperto di rara bellezza, con un minuzioso lavoro e studio dei dettagli. La tradizione diventa oggetto di un lavoro minuzioso, grazie a chi ha voluto raccontarlo attraverso i testi e gli scatti della macchina fotografica che ha immortalato i volti e le espressioni di chi partecipa a un rito collettivo, il cui fascino non sembra scalfito dal tempo. Il progetto sicuramente è un progetto ambizioso, che è quello di emozionare attraverso degli scatti per fermare un po' il tempo, un tempo molto particolare quello che finiamo di raccontare con passion o passione, perché rappresenta l'ultima settimana santa raccontata prima della pandemia, una settimana santa che ha visto la regia di Ivan Giumento e che attraverso i miei occhi ho cercato di raccontare. Ho cercato di raccontare l'espressione di ogni singolo attore nell'immedesimarsi in un ruolo che sicuramente è di recitazione, ma che il sancataldese vive come proprio. La settimana santa di San Cataldo si fonda sulle tradizioni della città, mostrando il lato più autentico di una Sicilia che deve essere ancora scoperta. Per questo i testi sono stati tradotti anche in lingua inglese. Il mio contributo è stato quello di scrivere delle didascalie che accompagnassero il lettore in questo viaggio all'interno della settimana santa. Queste fotografie di fatto non vengono mai spiegate, non bisogna spiegarle le foto, però nelle didascalie io ho voluto inserire un racconto, un racconto che fosse un trade union tra il processo a Gesù e la morte in croce, la morte al Calvario. Alla presentazione condotta dalla giornalista Ivana Baiunco rappresenta anche il sindaco Comparato che ha sottolineato la volontà di valorizzare la tradizione che deve diventare, dice Comparato, uno strumento di sviluppo economico e turistico per essere pronti a promuovere la settimana santa che è patrimonio immateriale della nostra città, consegnandola alle future generazioni.